Ciao e bentornato su Impara Da Vinci Resolve. Da dove partire per parlare di audio se non dalle tracce audio della edit page di Resolve? Oggi vedremo come sono strutturate e quali sono i principali controlli. Inoltre ci concentreremo sulla lettura dei livelli audio delle clip. Ma prima di continuare ti invito a cliccare sul pulsante iscriviti e sulla campanella a destra per essere sempre avvisato su tutti i nuovi video che andremo a pubblicare. Abbiamo visto nel tutorial di ieri come andare a organizzare l'interfaccia della edit page in funzione della post-produzione audio. In particolar modo abbiamo creato tre tracce audio, una per il dialogo, una per la musica e una per i sound effect. Come possiamo vedere la traccia del dialogo è legata alla traccia video in quanto sono in sync e lo possiamo vedere da questa iconcina della catena indicata a fianco del nome della clip. Però una volta che io ad esempio ho posizionato un sound effect all'interno della timeline in una posizione precisa del dialogo posso andare a inserire nella catena di sync anche il sound effect. In questo caso non lo è di default in quanto non compare il simbolo della catena di fianco al nome. Per farlo è molto semplice. Si seleziona quindi la nostra clip audio video, quindi dialogo e video. Si tiene premuto il tasto control e command e si seleziona anche il sound effect. Si fa tasto destro e si va a cliccare su link clips oppure sul shortcut control command più alt o option più L. E adesso come potete vedere compare il simbolo della catena anche sul sound effect e se io seleziono ad esempio la traccia video e comincio a spostarla sposterò tutto il gruppo di clip linkate tra loro. Quando io ho posizionato una traccia e la voglio tenere legata ecco magari è buona prassi linkarla in modo tale da evitare dei fuori sync involontari. Ora vediamo un attimo quali sono un po' i check presenti all'interno delle tracce audio. Guardiamo i due principali. Adesso se io ad esempio mi sto concentrando sul dialogo e l'ascolto la mia traccia vedo che tutto un po' mi disturba perché sento la musica e sento anche in sound effect. Se voglio lavorare solo sul dialogo mi allargo la traccia del dialogo e magari la vado ad isolare. Vado a dire alla timeline di farmi ascoltare solo la traccia con il dialogo. Per farlo vado a mettere il check su solo che è questo bottone con una S al centro. Se io clicco su solo questo viene evidenziato in verde. Questo significa che ascolterò solamente le tracce che hanno il solo attivato. Tutte le altre saranno spente cioè rese mute. Adesso se io faccio il play ascolto solamente il dialogo e mi posso concentrare solo su quello. Una volta che ho ascoltato il dialogo e l'ho sistemato e voglio aggiungergli magari anche il sound effect per vedere un attimo come rende vado a mettere il solo anche sul sound effect. Così in questo modo io ascolterò solamente il dialogo e i sound effect. Questo è un modo per poter lavorare in maniera progressiva sulle singole tracce. Il contrario del solo chiaramente è il mute. Quindi io posso spegnere una traccia. Ad esempio voglio spegnere il dialogo e ascoltare solamente la musica e i sound effect. Vado a mettere in muto il dialogo. Ecco che questo viene reso visibile anche sulla cromia della traccia cioè viene resa in negativo quindi in grigio indipendentemente dal colore che avevo assegnato alle singole tracce. Adesso questa traccia è spenta e io ascolterò solamente la musica e i sound effect. Ricliccando su mute ecco che tutto ritorna come era prima. Prima di fare qualsiasi intervento sull'audio occorre saper leggere i livelli dell'audio di tutte le tracce. Dove compaiono i livelli dell'audio? Compaiono attivando il pannello del mixer e lo troviamo in alto sulla destra. Quindi vado a cliccare su mixer ed ecco che compaiono tutte le tracce presente in timeline quindi la traccia A1 che corrisponde al mio dialogo la traccia A2 che corrisponde alla musica e la traccia A3 che corrisponde ai sound effect più il master. Adesso concentriamoci sulla lettura dei livelli. Come possiamo vedere la scala va da 0 a meno 50. L'unità di misura dei livelli audio è il decibel e tutto quello che sta sopra lo 0 che è il livello massimo viene distorto quindi è bene controllare che la mia clip abbia un livello di picco inferiore ai 0 decibel. Se io adesso mi concentro sul dialogo vado ad attivare il solo quindi vedo solamente la traccia del dialogo. Come possiamo notare questo dialogo è una traccia stereo quindi con un doppio canale però ho solamente il canale destro popolato quindi probabilmente questo è stato registrato su un microfono mono che riproduce solamente il canale destro. Occorrerà intervenire in post produzione audio replicando il canale destro sul canale sinistro in modo tale che si senta su entrambi i canali stereo della traccia del dialogo. Però controlliamo un attimo i volumi guardiamo dove sta più o meno il volume medio vedete i picchi arrivano intorno al meno 6, meno 7 siamo intorno ai meno 10 come media e solitamente, dico solitamente un dialogo ha come livello medio un valore che è intorno ai meno 12 dB quindi più o meno ci stiamo dentro il range tenete presente dico più o meno perché la regola non è una regola fissa bisogna ascoltarlo il dialogo e sentire se il suono è adeguato e il volume è adeguato però più o meno questo è il range se vado sulla musica la percezione cambia perché la musica ha bisogno di volumi un po' più bassi quindi solitamente la musica sta su dei range medi che vanno dai meno 10 ai meno 30 se la vado ad ascoltare quindi vado a mettere in solo la musica e faccio il play vedete che andiamo anche abbastanza oltre questi valori e quindi magari la possiamo poi ritoccare in modo tale da farla stare all'interno di quei valori i sound effects hanno invece una variabilità molto ampia perché dipende dal tipo di suono quindi solitamente vanno dai meno 30 ai meno 10 quindi hanno un'ampia escursione e dipende dal tipo di suono però lo scopo di questa prima lettura è di cercare di fare in modo che tutte le clip di dialogo ad esempio presenti sulla traccia del dialogo abbiano più o meno la stessa estensione di livello sul volume se ho dei salti di livello di volume su tutte le clip di dialogo posizionate in traccia 1 ecco su quello dovremo intervenire andando a rettificare i livelli di volume delle clip interessate ma questo lo vedremo a partire dal prossimo tutorial se hai delle domande in merito alla lettura dei livelli audio sulla timeline dell'edit page ti invito a farle qui nella sezione commenti di questo video e noi ci vediamo domani perché parleremo di normalizzazione dell'audio